Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Turno preliminare. Le squadre si affrontano con partite di andata e partite di ritorno. Queste sono le partite del turno di andata. Simulazioni delle partite. Turno preliminare. Andiamo a vedere quali sono le formazioni delle squadre. Simulazione veloce della partita. Grazie. 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 Questi sono i risultati delle partite. Simulazioni delle partite. Turno preliminare. Queste sono le partite del turno di ritorno. Vediamo insieme quali sono le formazioni delle squadre. Simulazione veloce della partita. Grazie. 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 a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Prossimo turno. Grazie.